Dovremmo esserci sull'inizio invece del discorso del Papa che era programmato per le 15-20 ore e siamo già oltre di qualche minuto, Riccardo. Continueremo ad essere oltre perché ancora non si è visto in aula, ne volevo approfittare per sottolineare una parola che forse è sfuggita, il Papa ieri ha parlato di abolizione globale e di morte, siccome ne parlava, tutti ci siamo concentrati sul fatto che il Papa chiedeva anche agli Stati Uniti l'abolizione della teoria di morte, la chiedeva.